messageri selfie buon feragosto a tutti oggi è il 15 agosto le ferie di augusto e in un'estrazione dello sterminio oggi è capitata la mamma la mamma allora la mamma a differenza della mamma nuda è vestita infatti si chiama solo la mamma perché ha il panneggio questo modello è nato nel 1995 due no tre anni dopo la nascita del primo modello della mamma nuda che del 1992 che io feci in occasione della nascita di alessandro quel bambino che si vede abbracciato alla sua mamma è alessandro a pochi mesi di vita mi rendo conto adesso che alessandro ha avuto nella sua vita apparentemente da sficatiello come dice lui ma come scrisse lui nei suoi primi fumetti nel giornalino più d'occhio che flavio fece quando era un bambino che faceva le elementari e fece collaborare anche i fratelli il fratello fece un piccolo personaggetto dei personaggetti disegnati e che si chiamavano gli sficatielli mi rendo conto che alessandro ha avuto la fortuna di avere una scultura dedicata a lui c'è un video incarinati dove si vede alessandro che si sta alzando e io ho accolti il momento che si sta per fare quel momento magico dove fa i primi passi infatti fu così allora la telecamera allora non è come adesso che devi prendere il video registratore insomma era un po' brigoso insomma riuscire a fare la cosa perché io ho visto le mosse perché poi quando c'è il pulsante non è che partiva subito c'era sempre due tre secondi di pugnetta no io lo vedevo e comunque ho beccato proprio quel momento dove lui si alza in piedi fa un passettino poi pop e ricarica e quello sono stati i primi passettini che ha fatto no e aver visto adesso la sua età no che sta facendo un lavoro veramente opocale che ha un nome così importante da genitore che vede il proprio figlio sempre come il top dei top dei troppo dei troppo dico a finire che senza volerlo abbiamo preso dei momenti salienti della sua vita che a seconda di come andrà la sua vita perché il progetto che sta facendo quello dell'orto sinergico è una roba di cui in futuro noi avremo un gran bisogno perché ci vivremo con quella roba lì potremmo non aver bisogno neanche di andare più a lavorare e far parte del sistema se vogliamo per come il sistema pretende no che dobbiamo essere suo non è che noi dobbiamo usare il sistema a vantaggio della nostra vita divina data dal creatore noi dobbiamo mettere la nostra vita divina data dal creatore a servizio del sistema che il sistema facesse delle cose buone avrebbe senso vai a vedere cosa fa il sistema fa delle cazzate enormi da psicopatico incurabile cronico senza speranza uccide il fratello distrugge il cibo fa frega il portafoglio se stesso avvelena i suoi figli li sequestra li tortura li massacra li perseguita per tutta una vita gli fa delle promesse li truffa sempre in continuazione li promette non mantiene questo questo a il sistema noi dobbiamo dare tutta la nostra vita perché il sistema ci dice sei cattivo se tu non ci permetti a noi di essere così cattivi con te e noi ben plasmati ben manipolati ticchitit ticchità ticchitit ticchità siamo stati ipnotizzati da nene tt e adesso ci fanno fare delle cose di cui noi la nostra coscienza che è qua non si rende conto perché siamo sconnessi adesso parliamo della mamma allora la mamma feci il modello della mamma nuda che era alessandro poi dopo tre anni in occasione della esperienza che ho fatto roxy bardi fai della scenografia che gli portò fortuna perché vinse due dei gatti signorino dopo di che non lavorando più magari per coincidenza con me anche perché poi le cose sono cambiate non ha più avuto scenografie che gli hanno fatto cominciare mia mamma una bella riscita allora tutto sto panneggio che io feci no dipinto lì nella riprese del roxy bar nella negli studi di roxy bar come quando feci la sangiovese la sangiovese la sangiovese il primo modello la feci perché a forza di disegnarla tante volte nel nei vetri della del locale che adesso non ci sono più e anche l'insegna mi rimase la voglia poi di provare a vedere com'era in 3d modellandola e siccome roxy bar feci feci un mucchio di tende no dipinte proprio feci un lavoro meraviglioso che mi feci i complimenti di sponsor tutti quanti poi feci un lavoro in un modo che gli feci venire la strizza perché c'erano metri metri quadri a me poi mi chiamarono l'ultimo momento io vabbè tanto la mamma perché questa mamma vestita questo vestito questo panneggio proviene dalla cosa che io devo raccontare per cui io ero andato a bologna a fare dei lavori di ero chiamato artisticamente da dei tocchi di mobili particolari che un grosso fornitore di mobili anche per cinema televisione eccetera di bologna assente grosso che voglio ancora allora sicuramente e siccome lì assente grosso lui arredava anche la roba roxy bar conoscendomi redronni aveva visto i lavori che avevo fatto è rimasto colpito e mi disse mi puoi fare dei tendaggi perché lui aveva fatto uno ha fatto uno sponso con la barilla doveva essere tutto quanto blu no ho detto mi potete fare tutti dei tendaggi blu mi fece vedere il posto che era lì vicino però abbiamo solo questi giorni qui una settimana mi sembra che eravamo e ho detto sì sì te lo posso garantire eccetera e mancava mancavano due giorni alla diretta alla diretta e ancora non si era disegnato tutto con le ombre fatte ma il blu di questi metri quadri era ancora di là da venire no e alla fine insomma salto fuori in pochissimo tempo alla fine vum fece una magia su tutta la preparazione che avevo fatto di ombre e cose che io vedevo tutti che passavano gli sponso dicono madonna tutto qui dice tranquilli ma qui cazzo se ci ha messo tanti giorni a fare solo le righe figurati a fare tutto quanto il blu poi con la velatura perché la velatura è una magia quando la conosci se la sai usare io un po' insomma in quel caso l'ho usata forse posso restamente dire che è l'unico caso in cui ho usato la velatura con un grandissimo effetto cioè con poca spesa e tantissima resa perché alla fine stesi questa velatura di blu molto lungo su tutto quello che avevo preparato e vennero fuori poi dopo fecemo la doratura il giorno successivo con le maschere e tutto quanto i cordoni che tenevamo sulle tende e fu uno spettacolo dopo mi fece i complimenti tutti quanti per cui mi rimase questa voglia di fare il panneggio che allora lo applicai sulla mamma nuda perché nella prima cioè nella mamma no perché nella mamma nuda mi piaceva mi piace tuttora la nudità tra madre e figlio perché è proprio quella intimità quella 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 vicinanza talmente vera talmente intima che più di così non ce n'è però può essere anche letta questa verità anche come un po' un po' debole nel senso che non ha una protezione non ha un vestito non ha una casa non ha qualcosa che la raccoglie un nido non ha un nido no è arrivata la zeolite è arrivata la zeolite la cosa ha comprata ma siccome l'ho regalata a una mia amica che ne ha bisogno io ero rimasto senza e adesso è arrivata la zeolite questa è la mia mamma la zeolite mi rottura via tutte le schifezze che ci buttano quelle scie chimiche nell'acqua nei cibi nei farmaci tutte quelle schifezze che il nostro caro sistema che ci chiede di essere tanto buoni con lui di non disturbarlo mentre lui ci si inizia fa in modo che non ci manchino tutti i giorni solo che il nostro corpo poverino non sa come fare non sa come sbalzarsene e ci muore dietro questo problema risolto la zeolite me lo risolve mi fa un risucchione interiore della madonna e tutte queste robacce quelle feci se ne vanno con il profumo della prima vera allora questa mamma qui siccome era bella come nudità però poteva avere questo aspetto un po' di debolezza nel senso di mancanza di nido con il panneggio che mi aveva montato un po' tutta la baracca dell'oxibar gliel'ho voluto applicare perché già la conciatura della mamma è la conciatura che ha una radice che viene da Michelangelo è la conciatura della Sibilla libica nella cappella Sistina che io conosco molto bene perché l'ho disegnata dipinta tante volte e ancora la utilizzerò per cui non ho fatto altro che continuare quel minimo di vestito che si vede nella Sibilla a parte la conciatura nella schiena perché si vede solo quel pezzo della schiena che io gli ho fatto abbastanza fedele per dopo il resto me lo sono immaginato io mettendo un panneggio sul corpo e mettendogli lateralmente quel giro quel giro che io mettevo nelle colonne dell'oxibar adesso non so se riesco a recuperare delle immagini dove si vedono abbastanza bene le cose perché poi non tengo mai niente veramente come andrebbe fatto un po' non so neanche se andrebbe fatto e per cui questa mamma questa mamma che è in sterminio in realtà non è sola sono due le mamme uno è qua l'ho già fatta vedere abbiamo il cane fedele amico dell'uomo e l'altra mamma eccola qua l'altra mamma queste sono le due mamme vestite che sono destinate allo sterminio se siete interessati a riscattarle sicuramente cioè pagando la cifra diventando i proprietari del pezzo la mamma con 200 euro è veramente una roba da da prendere al volo voi voi se avete un minimo di sale in zucca e avete un minimo di sodio anche se doveste fare un sacrificio non dico grande no? ma se se invece di comprarvi una borsa un paio di scarpe sacrificate e comprate una di queste poi riprendete e prendetevi le borse che non guarderete più su questo e questo non vi pentirete mai di averla riscattata oppure le 10.000 firme se riusciamo ad ottenerle perché quello è il segnale che mi dirà sì siamo interessati a far andare avanti questo progetto perché vogliamo viverci dentro e godere di questa bellezza che già godiamo vedendo le sculture immaginatevi essendo dentro a un'opera d'arte fatta con tre colossei dove c'è arte ovunque a disposizione dell'essere umano che viene a dire che l'arte suprema siamo noi oggi non sono tutti il cartone oh bravo io è arrivata? velocissimo ah se stanno pieno abbiamo andato lì perché le ho chiamate ieri fantastico però se riuscivano a spedire così si rispondono molti stessi interrompo che sto facendo un video è velocissimo si si vi faccio vedere il casino dall'altra gomma qual è il problema stavo parlando della mamma adesso la chiudo perché meritano comunque perché ad esempio non li cito quasi mai i numeri però questa mamma qui è la numero 19 di 99 pezzi ce l'avevo a fare questo è stato colato appunto nel 2005 2005 dieci anni dopo che ho fatto il modello il modello del panneggio ne avevo fatte all'inizio anche con il panneggio blu ne abbiamo vendute tantissime col panneggio blu e la doratura proprio come i roxy bar e questa invece è la numero 21 adesso si vede questa è la numero è la numero 21 di 99 oh bella e qui state la 19 sono destinati allo sterminio o andare in una casa a fare compagnia agli esseri umani che hanno avuto la fortuna di incontrare questa informazione e di sentire che risuonava con il suo cuore chi sarà? era bello a scoprirlo se volete fare una firma fate bene all'universo intero anche se non verrà mai bussare la porta e dire grazie per il mio firmato ma da qualche parte un grazie lo senti da parte della vita ciao e alla prossima messaggeri selfie ah ho messaggeriamo messaggeriamo